buonasera ben ritrovati al tg7 basilicata apriamo questa edizione con l'ennesima vittima a causa di un incidente sul lavoro si tratta di un operaio di 39 anni di gravine in puja che è morto quest'oggi agenzano di lucania mentre lavorava in un'azienda di laterizi è rimasto schiacciato dal materiale e l'aterizio che gli è caduto addosso trasportato con l'ambulanza del 118 all'ospedale san carlo di potenza è deceduto poco dopo un'operazione contro la criminalità organizzata in diverse province ha portato il giudice per le indagini preliminari di firenze a firmare un'ordinanza di custodia cautelare per associazione a delinquere con l'aggravante mafiosa finalizzata la ricettazione furto detenzione porto abusivo di armi oltre che di esplosivi riciclaggio indebita percezione di erogazioni pubbliche violazione delle norme sull'immigrazione le misure ne riscono indagati tra firenze le province di salerno prato latina verona e potenza le perquisizioni riguardano 13 indagati e gli arresti al momento sono 10 in campo la polizia e guardia di finanza di firenze con la direzione della dda fiorentina il coordinamento della dna i suoi presunti componenti si riunivano quasi ogni giorno in una pizzeria di firenze acquistata subito dopo l'inizio della pandemia e poi finita al centro di una guerra tra clan culminata con l'esplosione di una bomba carta davanti al locale il 23 febbraio scorso rimane stazionario il numero delle persone positive al covid 19 ieri sono stati registrati 35 casi di positività il bollettino regionale ci segnala purtroppo anche due decessi il titolare di una società di forme un suo dipendente sono stati denunciati stato di libertà la magistratura con l'accusa di aver svolto un servizio di vigilanza in un centro commerciale di tito senza essere in possesso delle necessarie autorizzazioni l'assessore regionale della basilicata le attività produttive francesco cuparo rassegnato le dimissioni per motivi personali e familiari ho consegnato le mie irrevocabili dimissioni al presidente bardi ha spiegato cuparo ringraziandolo per l'incarico ricevuto che ho tentato di svolgere in tutti questi anni col massimo impegno e la piena disponibilità di servizio alle nostre comunità e ai nostri territori senza risparmio di tempo e di energie passiamo come sempre in chiusura alle previsioni del meteo previste per domani sabato 11 giugno nubi in aumento con piogge sulla basilicata fenomeni prevalentemente deboli a tratti moderati sul materano io che ogni sera vi ringrazio termina questa edizione serale del tg7 basilicata ci ritroviamo sempre qui domani grazie a tutti grazie a tutti